Questa è la situazione come farsi rovinare la schiena dal proprio gemello. Andiamo a scriverlo insieme. Sono già in posizione per il video, mio fratello sta cercando il suo telefono per metterlo nella lampada ma non riesce a trovarlo, ma è il suo telefono quindi non so aiutarlo ovviamente. Ovviamente Mirko sta impostando la lampada e il suo cellulare nel raggio dove io comunque non si veda perché lui si deve appoggiare alla mia schiena per dare l'effetto che lui sta camminando. Ok. L'altro l'hai acceso il tuo telefono? Facciamo una prova. Facciamo una prova. Io mi devo finire un po'. Lui deve cercare di capire. Lui mi sta appoggiando alla mia schiena per camminare. Non mi dichiaro giù i pantaloni, giustamente. Fate molta attenzione se lo volete imitare, farlo a casa. Perfetto, ci siamo. La mia schiena è pronta. Eh, non riesce, non riesce. Come fai? Prattissimo! Ah! 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 Ti riproviamo? Facciamo una comica. Perfetto. Facciamo una comica. Via! Sei pronto? Girono un po' qui te fia, ne? L'ultima volta? Che notte l'idea? Che cazzo? Girono un po' qui te fia, ne? L'ultima volta? Che notte l'idea? Che cazzo? Girono un po' qui te fia. Ok, vai. Mi sei riscato il mio. Sì, sì, sta gestrando. Ancuno però! Avvisami, no? Daniel, si è fatto male, perché volevo fare... Sì, distruggi anche la casa, distruggi. Praticamente volevo fare così, però non glielo ho detto. Guarda, li potevi anche avvisare. Guarda, si è fatto male. Sei proprio stronzo. Guarda, li potevi anche avvisare. Ciao. Grazie a tutti.